Grazie ancora Piero, professor Masulli. Questa è una delle lezioni che come Scuola Interdisciplinare Cosmopolita presentiamo. Abbiamo già fatto molte lezioni da novembre dell'anno scorso che continua questo percorso. Ricordo che potete trovare le lezioni già fatte e la presentazione di quelle future nel sito di transformitalia.it e do subito la parola a Piero per presentare la lezione di oggi e il professor Ignazio Masulli. Prego Piero. Grazie Roberto, buonasera a tutte e a tutti. Allora, grazie naturalmente a Ignazio Masulli che ha accettato con entusiasmo di tenere questa lezione su un tema in cui lui ha studiato per tutta la vita. Allora, ricordo infatti che è stato docente di storia del lavoro e di storia dell'Europa contemporanea all'Università di Bologna ed è attualmente membro dell'Institute of Historical Research Advanced School dell'Università di Londra e nonché membro dell'Unione Europea del Systemic. Poi spiegherò il mistero di questa sua collocazione ed è membro di varie istituzioni di ricerca internazionale. Si è formato a Bologna dove ha insegnato un pioniere della storia del lavoro in Italia, disciplina poco frequentata dagli storici italiani, Luigi Dalpane. Università, grande università, la prima università italiana, come sapete, grande università dove è fiorita una straordinaria scuola di storia agraria, dove c'era Dalpane, Renato Zangheri che non è stato solo un grande sindaco, Roberto Finzi, Franco Cazzole e tanti altri. Allora, il percorso scientifico e formativo di ricerca di Masulli è stato abbastanza originale nel panorama degli storici italiani perché a un certo punto, a partire dagli anni Ottanta, ha lasciato gli studi storici propriamente detti e si è dedicato, studiando nel Regno Unito, a elaborare modelli interpretativi e sistemici applicati alla storia. Ha studiato la teoria dei sistemi, della complessità e ha lavorato con grandi studiosi che si occupano di questa disciplina, quindi con una collocazione abbastanza originale sotto il profilo della specializzazione. Per brevità ricordo un solo testo di questa stagione di studi, e cioè Nature and History, The Evolutionary Approach for Social Scientists, pubblicato a Londra nel 1997 e mi pare riedito nel 2020. In questi ultimi anni, tuttavia, è ritornato alla storia del lavoro, ha lavorato con Luciano Gallino, uno dei nostri grandi storici del lavoro, storico-industriale, che ha dato, come sapete, negli anni della sua estrema maturità, dei contributi fondamentali all'analisi del capitalismo, soprattutto del capitalismo finanziario, dei nostri anni. Allora, ricordo solo alcuni titoli, alcuni libri scritti da Ignazio Masullo, che confermono i suoi interessi storico del lavoro, storico del welfare state e anche storico dell'emigrazione, si è molto interessata all'emigrazione internazionale. Allora, ricordo quel first state e il patto sociale in Europa, Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, 1945-1985, Club Bologna 2003. Poi, un testo che è indicato nella bibliografia e che dà il titolo alla sua lezione di questa sera, Precarietà del lavoro e società precaria nell'Europa contemporanea, questo è dedicato appunto specificamente all'Europa, Carocci 2004, ricordo uno dei suoi ultimi lavori che ha cambiato il mondo, La società tardo-capitalistica, 1970-2012, la terza-2014. E poi appunto una miriade di altri esaggi, sia in libri collettani, sia in riviste italiane e straniere. Dunque, mi fermerei qui, credo che ci sia abbastanza materia per farsi un'idea di questo studioso, che fa parte dell'Officina dei Saperi, una comitiva, diciamo, di ragazzotti, i quali continuano, a dispetto delle avversità e delle smentite della storia, a, diciamo, fare la loro parte di militanti intellettuali. Bene, do quindi subito la parola a Ignazio, che svolgerà la sua lezione. Grazie. Grazie, Piero, per la presentazione e buonasera a tutte e a tutti. Io, per non dilungarmi, per esperienza, se parlo a braccio divento più lungo. Quindi cercherò, mi sono preparato un testo, insomma, quindi seguirò il testo che mi sono preparato e che mi fa stare in tempi contenuti, anche perché vorrei, se ci riesco a mantenere questi tempi che ho calcolato, dividere il tempo previsto in due parti. La prima parte faccio una sorta di introduzione o di lezione, se vogliamo chiamarla così, e la seconda parte vorrei lasciare spazio al dibattito, anche per motivi che dirò mentre parlo. Dunque, precarietà del lavoro significa, per me, società precaria. Conviene partire dal processo di ristrutturazione tardocapitalista, che per me comincia con le risposte date all'abbassamento del tasso di profitto, verificatosi nei primi anni settanta e che ha riguardato in particolar modo Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, cioè i paesi centrali del capitalismo storico, ma che ha avuto effetti diretti e indiretti, sempre più stringenti, nei paesi emergenti e in via di sviluppo, nonché in quelli ex socialisti. Se oggi lo sviluppo economico di paesi come la Cina, l'India, la Federazione Russa, il Brasile, il Messico, il cui PIL a parità di potere d'acquisto è salito ai primi posti della graduatoria internazionale, inserendosi tra quelli dei paesi di più antico sviluppo. Ciò è dovuto ai rapporti stabiliti da questi paesi, chiamiamoli centrali, o del capitalismo storico, con i paesi di nuova affermazione e di nuovo sviluppo. Ovviamente questi cambiamenti hanno riguardato non solo l'economia, ma hanno avuto importanti conseguenze sociali, sia nei paesi di più antico che di nuovo sviluppo. Così come sono stati importanti le politiche perseguite nello stesso periodo, dai governi, cioè dagli anni settanta ad oggi in pratica, dai governi nazionali e dalle istituzioni internazionali, nel concorrere a ridisegnare la mappa del mondo contemporaneo. La mia ipotesi interpretativa è che la crisi di sistema in cui siamo giunti è dovuta principalmente all'esaurimento del capitalismo dei consumi. I limiti ecologici, economici, sociali e di razionalità politica e l'insostenibilità di questo modello di sviluppo sono oggetto di analisi circa da decenni, ma proprio il processo di ristrutturazione tardocapitalista ha permesso il protrasse di questo tipo di sviluppo ed anzi ne ha promosso la propagazione ad altri paesi storicamente caratterizzati da modelli sociali molto diversi. Sicché questi ultimi, conformandosi più o meno forzosamente al processo di modernizzazione dominante, ne hanno seguito le linee principali, pur nelle differenze peculiari dei diversi contesti. Quello che ci interessa sottolineare è che le strategie di superamento della crisi dei profitti, che sono state adottate da più importanti gruppi imprenditoriali e in generale supportate dai governi, e che hanno costituito gli assi portanti della ristrutturazione di cui sto parlando, sono stati tre. Delocalizzazione produttiva, automazione spinta, finanziarizzazione del capitale. La prima di tali strategie è consistita nel fatto che dagli inizi degli anni Ottanta imprenditori, grandi e medi, hanno aperto un secondo e sempre più ampio fronte della delocalizzazione di parte delle loro produzioni e degli investimenti all'estero. Nei decenni precedenti c'erano stati questi investimenti e queste delocalizzazioni, ma riguardavano soprattutto altri paesi maggiormente sviluppati, partner abituali, di quelli soprannominati. La nuova ondata di delocalizzazione invece e di investimento all'estero che si apre con gli anni Ottanta ha riguardato un arco ben più ampio di paesi perché ha privilegiato quelli che offrivano grandi riserve di forza lavoro a basso costo e dove essa poteva essere sfruttata senza particolari vincoli legislativi o sindacali. Assenza di vincoli che riguardava anche altri aspetti, quali la difesa dell'ambiente, obblighi fiscali e altri. L'entità di questo fenomeno è stata molto più grande di quando di solito siamo abituati a pensare. Pochissime cifre per fare un esempio. Nel 2020 in Italia le delocalizzazioni produttive delle imprese che avevano sede legale in Italia sono state pari al 31,6% del PIB. Nella pur celebrata Germania le delocalizzazioni delle imprese tedesche all'estero sono state pari nel 2020 al 52% del PIB. Per averne contezza più concreta queste cifre corrispondono nel caso italiano a posti di lavoro potenziali pari a 2.865.000 posti di lavoro potenziali. In Germania il 52% del PIB delocalizzato corrisponde a 8,6 milioni di posti di lavoro potenziali. Questo secondo la legge di Occhi. Un capo economico preciso. Quindi si tratta di fenomeni enormi. In secondo luogo, e qui veniamo alla seconda risposta, grazie ad alcune applicazioni della microelettronica è stato possibile, da parte degli imprenditori, assicurarsi un elevato, elevatissimo grado di automazione della produzione industriale e della informatizzazione dei servizi. Una forte automazione non era certo un obiettivo nuovo nella storia del capitalismo. Si parte, si può partire da terai meccanici e subito azionati dalla forza, dal vapore. Ed è proseguita con la catena di montaggio, eccetera. Ma nuovi e prima impensabili sono stati i livelli dell'automazione resi possibili dalla rivoluzione microelettronica. Anche questa risposta ha consentito grandi risparmi di manodopera per produrre una stessa quantità di beni e servizi. Inoltre, essa ha favorito la delocalizzazione in paesi con forza lavoro, poco o per nulla qualificata. Sempre per rispondere nel modo più rapido e facile all'abbassamento delle tasse di profitto dei primi anni 70, quote crescenti di capitali hanno preso la strada degli investimenti finanziari. Anche in questo caso, i dati dimostrano le inusitate proporzioni del fenomeno che ha portato a quella che conosciamo bene come una straordinaria crescita di potere e di autonomia del capitale finanziario fino a farlo regista dell'intero sistema economico. Queste tre strategie e il loro intreccio hanno consentito di riguadagnare i livelli di profitto precedenti alla crisi degli anni 70 e di farlo perseguendo le vie più brevi e più facili, evitando cioè di impegnarsi nell'innovazione della produzione, della tipologia dei prodotti e dell'organizzazione del lavoro. In tal modo, esse hanno consentito il perpetuarsi di un modello di sviluppo giunto a scadenza e con la cui obsolescenza occorre oggi fare conti. Tutto ciò ha provocato profondi mutamenti nel mercato internazionale del lavoro. Basti pensare ad un fenomeno affatto nuovo nella storia, vale a dire all'incrocio di due grandi migrazioni procedenti in senso inverso. Quella tradizionale, classica, dei lavoratori provenienti dal sud del mondo, dai paesi più poveri, e in cerca di lavoro in quelli più ricchi che si è incrociata con una immigrazione diversa, quella che ha portato la produzione dai paesi più ricchi nei paesi periferici, oggetti destinatari della delocalizzazione produttiva. da parte dei primi. Quindi, queste due grandi migrazioni, incrociandosi, hanno avuto come conseguenza primaria il fatto che imprenditori di tutti i settori hanno avuto mano libera, come mai era successo prima, nel perseguire una forte concorrenza a ribasso delle condizioni di lavoro, della sua retribuzione e regolamentazione. Inoltre, la delocalizzazione congiunta all'automazione spinta, resa possibile da determinate applicazioni della microelettronica, ha consentito un'ulteriore decualificazione, intercambiabilità, e quindi precarietà del lavoro. Tale precarietà rappresenta un netto peggioramento dei rapporti di lavoro nei paesi più sviluppati, ma pesa anche come un vincolo quasi obbligato nei paesi del sud del mondo, destinatari della delocalizzazione. Infatti, per questi paesi il superfruttamento del lavoro costituisce il maggiore fattore attrattivo della delocalizzazione produttiva e degli investimenti provenienti dall'estero, sicché i governi e i gruppi dominanti di questi paesi hanno tenuto fermi e garantito il persistere delle condizioni dello supersfruttamento. In realtà, il fenomeno, se si vuole, è ancora più complesso perché riguarda una generale mercificazione sia del lavoro, sia della natura. Nei paesi di più antico sviluppo, la crescente mercificazione e precarizzazione del lavoro ha ridotto drasticamente decenni di conquiste sindacali e politiche che riguardavano non solo le condizioni dei lavoratori ma la qualità sociale nel suo complesso. Ciò che è venuto meno è la funzione del lavoro nella organizzazione sociale. La drastica riduzione e tendenziale eliminazione di tale funzione provoca una instabilità critica del sistema. D'altra parte, una delle conseguenze più vistose del rafforzamento dei gruppi di potere dominanti è stata appunto una decisa accentuazione della precarietà e intercambiabilità della forza lavoro. Il fenomeno è stato il risultato scientemente perseguito di nuove forme di impiego e sfruttamento dei lavoratori tali da renderli più facilmente dipendenti dagli andamenti di mercato. Il moltiplicarsi delle forme di lavoro precario ha assunto ben presto i connotati di una delle instabilità critiche che fanno parte del nuovo modo di funzionamento del sistema. In altre parole, la crescente precarizzazione del lavoro è divenuta un aspetto saliente della morfologia della società della crisi o, se si preferisce, della società precaria. per individuare meglio i contorni è utile riassumere brevemente le forme di lavoro precario più diffuse negli ultimi anni nonché la loro incidenza. Per risparmiare tempo mi riferirò alla situazione italiana riservandomi casomai nel prosiego durante il dibattito di fare confronti con altri con altri paesi. Parlando dell'Italia, in primo luogo sono da considerare i contratti di lavoro a tempo determinato. essi possono riferirsi anche a forme tradizionali quali lavori stagionali specie in agricoltura e nell'edilizia all'apprendistato e ad altri ma di cui si è dilatato notevolmente nonché alterato l'impiego nell'ultimo quarantennio. Sempre più diffusi sono i contratti di formazione lavoro. Erano nati per attenuare l'impatto negativo dei processi di ristrutturazione di cui dicevo ma sono stati poi utilizzati come forme di impiego dipendenti dall'andamento congiunturale ma condizionati anche dalla legislazione che ne consentiva un più ampio ricorso. Sono invece relativamente più recenti forme come quelle del lavoro interinale del lavoro cioè preso in affitto attraverso apposite agenzie che lo organizzano. altri contratti possono essere definiti a tempo parziale in senso più stretto. Ad esempio contratti di lavoro a turni che possono svolgersi nell'arco della giornata della settimana dell'anno tempo parziale non per scelta dei lavoratori ma tempo parziale cui essi devono adeguarsi. Vi sono inoltre lavori precari connessi a nuovi sistemi come ad esempio quelle prestazioni di telelavoro gestite dai dirigenti d'azienda con una logica di cottimo più o meno evidente. Sono poi da considerare i lavori parasubalterni che assumono le più varie vesti di lavoro autoregolato ma che in realtà obbediscono anch'esse a logiche di cottimo variamente mascherate. Rientrano in questa categoria ad esempio i lavori a progetto e similare. In una rassegna per quanto rapida occorre accennare anche alle forme di flessibilità del lavoro che non si esprimono in distinte tipologie contrattuali ma che si affermano di fatto all'interno dei contratti a tempo indeterminato. Anche in questi casi infatti sono richiesti in modo sempre più pressante adattamenti ai tempi di lavoro e alle stesse forme di remunerazione secondo una variabilità che può essere molto accentuata. Ad esempio i salari possono essere differenziati a seconda della produttività del lavoro indipendentemente da quantità e qualità delle prestazioni si intende. Gli orari e i tempi possono variare in dipendenza delle più diverse esigenze aziendali. Possono essere disposti trasferimenti interni tra vari tipi di lavorazione reparti e perfino sedi dell'azienda. In tal unicasi il lavoratore può essere per così dire delocalizzato, non avere cioè alcuna destinazione lavorativa stabile o preferenziale. Un'analisi quantitativa comparata di questi fenomeni nei maggiori paesi europei e negli Stati Uniti non è agevole per la varietà dei dati e dei diversi criteri statistici adottati nella loro elaborazione. Tuttavia un'idea generale dell'andamento di questi fenomeni e del loro infittirsi negli ultimi decenni la possiamo avere facendo riferimento ad alcuni quadri statistici dell'Oxen. Ora non mi sembra opportuno ingolfarci subito in una serie di numeri. Mi riservo di citarne alcuni durante il dibattito. Ora mi interessa piuttosto soffermarmi su tre conseguenze tre precise conseguenze che l'aggravarsi quantitativo e qualitativo della precarietà del lavoro hanno avuto nella decostruzione del modello sociale formatosi in Europa occidentale nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. una prima conseguenza della precarietà del lavoro nel concorrere alla decostruzione di quel modello storico è ben rilevabile nel netto ridimensionamento dello stato sociale. Infatti viene meno il primo obiettivo e al tempo stesso il requisito principale di un sistema di welfare vale a dire la sicurezza del lavoro e il mantenimento del reddito sinché in tutti i casi in cui l'uno o l'altro venivano a mancare per disoccupazione malattia vecchiaia si poteva contare su provvedimenti di solidarietà sociale il cui diritto era riconosciuto anche sul piano costituzionale. Viceversa la concezione della precarietà del lavoro come un dato acquisito quasi fisiologico della nuova realtà sociale porta già nella seconda metà degli anni settanta non solo a teorizzare e praticare una netta riduzione delle politiche di welfare ma anche a un ribaltamento del loro significato e funzioni invece di costituire un sistema di sicurezza sociale il cui scopo è di migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei cittadini il welfare si riduce ad un mero sistema assistenziale che interviene per puntellare e rendere minimamente sostenibile il venir meno o la riduzione del lavoro e per soccorrere gli ultrabisognosi una concezione neoassistenzialista quindi il venir meno o la diminuzione del reddito non vengono compensati in maniera adeguata e certa se e in quanto dipendenti da cause naturali o crisi sociali previste dal patto di solidarietà ma sono controbilanciati in misura molto più limitata quando peggiorino in conseguenza degli obiettivi e delle scelte degli stessi gruppi dominanti per converso viene incoraggiata la privatizzazione dei servizi e delle assicurazioni in tal modo ridotta severamente la rete di protezione sociale il peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita di larghi strati della popolazione è molto più esposto ai meri andamenti di mercato i provvedimenti di welfare tornano ad essere concepiti e rimodulati nella logica dell'assistenzialismo paternalistico che vigeva nella formazione che vigeva nella formazione sociale tradizionale quell'ottocentese e prima della rottura di quella dipendenza rottura determinata dalle grandi lotte e dalla auto-organizzazione delle classi lavoratrici nell'Europa di fine ottocento e primo novecento ma non si può non ribadire che quella rottura segnò l'inizio di un lungo percorso che attraverso altri conflitti sociali e scontri politici continuò a incidere profondamente nel lungo e travagliato processo in cui si è formata la società di massa la seconda conseguenza è riscontrabile nella messa in crisi di tutto un modello sociale a partire dalla ricostruzione economica e democratica del secondo dopoguerra le classi lavoratrici europee hanno ulteriormente intensificato le lotte rivendicative eccedendo spesso l'ambito sindacale stretto e battendosi per riforme sociali più generali questo fatto ha favorito la formazione di più larghi movimenti democratici nel senso che accanto alla rivendicazione di diritti di cittadinanza sociale si innestava una riproposizione rinnovata e allargata dei diritti civili e politici se attraverso questa via che si sono avuti la rifondazione prima e il rinnovamento e l'ulteriore sviluppo poi delle basi della democrazia in Europa occidentale nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale è chiaro che il modello sociale così formatosi ha una originalità e sostanza storica irriducibile ne consegue che gli attacchi portati da più parti e sempre più frequentemente ai diritti dei lavoratori allo stato sociale e alle altre conquiste di movimenti collettivi come quello ecologico femminista di difesa dei diritti civili portano ad una revisione e riduzione di diritti e conquiste storicamente consolidati con la conseguenza di colpire un intero modello sociale e di compromettere la stessa capacità di funzionamento di quel modello non si tratta solo della precarietà del lavoro e o del welfare in realtà è tutto un livello dell'organizzazione e della qualità sociale che entra in crisi né viene proposta un'alternativa la cosiddetta prospettiva neoliberista che viene indicata attraverso la precarietà del lavoro lo smantellamento dello stato sociale la deregulation la riduzione dei poteri e dei controlli dello stato democratico non costituiscono un nuovo modello sociale in realtà ci troviamo oggi in assenza di una morfologia sociale coerente equilibrata capace di funzionare e soprattutto di evolvere la decostruzione di un modello storicamente formato attraverso una costante dialettica sociale e politica comporta l'allentamento dei legamenti sociali e lo svuotamento della democrazia la precarizzazione del lavoro il moltiplicarsi delle forme di tale precarietà e la dilagante estensione del fenomeno hanno anche una terza disastrosa conseguenza che non è meno preoccupante delle precedenti essa infatti favorisce l'affermarsi di una nozione e di una realtà del lavoro come mero strumento di produzione del reddito ridotto in questi termini il lavoro perde ogni significato e valore rispetto al funzionamento sociale e non può essere più considerato base e titolo per la rivendicazione dei diritti di cittadinanza sia politica che sociale eliminata ogni resistenza possibile e portate a termine una riduzione e una soggezione delle condizioni lavorative perseguite da tempo completata cioè un'evoluzione già oggi molto avanzata di riduzione del lavoro a merce il lavoro non potrà che sottostare alle logiche parziali meramente utilitarie e affatto contingenti che governano il mercato proprio l'occultamento e la rimozione dell'utilità e della funzione sociale del lavoro permetterà di prescindere da esso e di ricorrere ad altri riferimenti e strumenti nei processi di identità e di regolazione dei rapporti sociali obbedienti piuttosto alla logica del mercato che si vogliono obbedienti alla logica del mercato i soli interessi di mercato potranno in maniera ancora maggiore e incontrastata dell'attuale determinare le relazioni di trasformazione del sistema si tratta in realtà di un modello anomico che come tale comporta diverse tendenze di crisi senza fornire gli strumenti per far fronte alle crisi da esso stesso provocate provocate vale a dire squilibri ambientali limiti dello stesso sviluppo economico diseguaglianze sociali crescenti depoliticizzazione e privatizzazione dei rapporti sociali delegittimazione dello Stato difficoltà di integrazione socio-culturale e altre il modello sociale del tardo capitalismo sembra volere e poter convivere con le sue stesse tendenze di crisi quasi facendone tratti perduranti e propri del suo modo di funzionamento in altri termini il modello attualmente perseguito dai gruppi dominanti nei paesi del tardo capitalismo sembra ammettere una soglia di instabilità critica accentuata e persistente la stessa precarietà del lavoro si configura come una componente di questo modo di funzionamento del sistema questo dato del resto è tutt'altro che isolato esso è accompagnato direi quasi intrecciato ad altri aspetti della instabilità critica come la sempre più accentuata privatizzazione dei rapporti sociali l'affermarsi di logiche meramente utilitaristiche in molte forme della sociabilità e perfino nei rapporti interpersonali sembra davvero di trovarsi di fronte ad una morfologia sociale acefala dimentica dimentica e incurante dei luoghi della responsabilità delle coordinate di senso che pure sono indispensabili per compiere le scelte anche individuali una morfologia sociale insomma depoliticizzata nel senso più generale del termine come superare quella che sembra ormai una vera e propria crisi di anomia come ricostruire i luoghi della responsabilità il senso e i fini delle scelte da compiere certamente occorrono diversi piani dell'analisi per tentare di trovare elementi di risposta almeno iniziali e ipotetici dal punto di vista storico sembra plausibile e necessario pensare proprio a un nuovo patto sociale un nuovo patto sociale di portata e significato non inferiori a quello che fu stipulato nel secondo dopguerra anche se con caratteri e riferimenti necessariamente diversi in ogni caso penso che tra gli elementi caratterizzanti di un rinnovato patto sociale un elemento fondativo vada riproposto con decisione vale a dire la centralità del lavoro e del riferimento ad esso come base per la rivendicazione e la stessa concezione dei diritti sociali occorre quindi riproporre e rielaborare nei nuovi termini della realtà contemporanea una concezione del lavoro come espressione piena della volontà e dell'intelligenza della persona accanto al riconoscimento della sua insopprimibile funzione sociale funzione che non può essere certo svolta dal mercato la cui logica è parziale meramente utilitaria e costitutivamente irresponsabile occorre ripristinare il riferimento al lavoro come base della concessione e rivendicazione dei diritti e quindi come valore fondante della democrazia la scelta alla fine è chiara o si difende e si rilancia rinnovandola una concezione del funzionamento e della legittimazione sociale fondate sul lavoro o la logica del mercato per sua stessa natura parziale e strumentale sarà definitivamente elevata a parametro e criterio unico del funzionamento sociale se saremo capaci di invertire la tendenza potremo aprire la via di un rinnovamento e ampliamento quanto mai necessari della cittadinanza politica e sociale in altri termini riaprire la società alle trasformazioni necessarie alla sua evoluzione in quanto organismo vivente io termino qui la prima parte per lasciare credo di esserci riuscito un più ampio spazio a interventi e dibattiti e dibattito vi ringrazio da pazienza per ora grazie ignazio profonda e completa analisi delle origini diciamo materiali e strutturali della situazione presente credo che dalla tua lezione si possa vedere in maniera limpida il meccanismo che ha portato all'involuzione della società della seconda metà del novecento e del primo ventennio del nuovo millennio cioè è il lavoro secondo un'analisi marxiana intramontabile io credo il diciamo il motore dell'intera società e quel che accade al lavoro si riflette inevitabilmente su tutti gli ambiti su tutte le sfere del mondo sociale culturale umano naturale e naturalmente anche morale bene io perché ho già parlato troppo apro la discussione chi vuole intervenire può alzare la mano con i segnali appositi facciamo una cosa Ignazio immagino che tu preferisca rispondere immediatamente a ogni domanda senza accumularlo sì 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 è meglio è più chiaro Pino Ippolito Armino ha chiesto la parola sì grazie Piero e grazie soprattutto a Ignazio Masulli per la sua brillantissima lezione c'è un aspetto che vorrei fosse chiarito e che è questo chiarissimo diciamo le tre strategie del tardo capitalismo per uscire dalla crisi di profitto degli anni settanta di queste tre strategie quella della delocalizzazione e quella della finanzializzazione mi sembrano le più facilmente colpibili quelle sulle quali la politica può opporre più facilmente un freno mentre quella dell'automazione che è la terza strategia indicata mi pare mi sembra che la strategia sull'automazione se interamente può essere considerata strategia del capitalismo è più difficile da frenare e tra l'altro ha una conseguenza nel lungo termine nell'utopia diciamo di macchine che a loro volta sono in grado di produrre macchine e che potranno sostituire interamente il lavoro umano rende quel lavoro non solo come produttore di reddito in effetti sempre più problematico questo è il senso della mia domanda grazie Pino ti ringrazio molto di questa domanda che mi aiuta a chiarire un concetto che per brevità l'automazione l'automazione è certamente difficile da colpire ma quello che è da colpire è l'uso che di questa autoemozione consentita dalla rivoluzione microelettronica si fa cioè l'uso la rivoluzione microelettronica ha consentito nuove tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni eccetera una grande rivoluzione possiamo dire ma l'uso prevalente dell'automazione consentita dalla rivoluzione microelettronica è consistita nella riduzione della forza lavoro necessaria per produrre la stessa quantità di beni cioè è la stessa logica che è stata adottata fin dall'inizio con l'introduzione del telaio meccanico è la stessa logica del terrorismo e questa logica cioè l'automazione per la riduzione del lavoro per la sua intercambiabilità intercambiabilità da cui procede poi la precarizzazione perché se io rendo la mano d'opera intercambiabile io la precarizzo immediatamente no è questo che si può e si deve combattere come è stata combattuta fin dall'inizio fin dalla prima rivoluzione industriale non c'è bisogno di ricordare con la riduzione dell'orario di lavoro per esempio sì ma è in tutti i modi possibili in tutti i modi possibili ma voglio dire la lotta è contro l'uso e va diretta contro l'uso dell'automazione l'uso dell'automazione che porta alla precarizzazione l'automazione queste lotte sono state fatte fin dalla prima rivoluzione industriale nell'Inghilterra del primo del primo ottocento queste lotte sono state fatte contro il terrorismo cioè contro tutti i tipi di automazione tendenti a ridurre la manodopera occorrente a renderla intercambiabile a precarizzarla queste lotte sono state fatte e vanno rinnovate vanno riproposte appunto come diceva Piero i modi sono diversi ma sono modi Piero credo che sia d'accordo con me che necessitano appunto come in passato di lotte di vere e proprie lotte il problema è questo che la lotta di classe dall'alto la lotta di classe dopo la lotta di classe come dice Gallino come ha detto Gallino rende difficile rende difficile l'organizzazione della lotta quando si privatizzano i rapporti sociali quando si spezzano gli stessi legamenti della società diventa molto difficile la lotta e questo è il terreno su cui dobbiamo confrontarci per fare quello che è stato fatto contro dal movimento Ludita in poi insomma fino a secondo dopoguerra le lotte che cittano grazie grazie abbiamo Giuseppina Montanari e poi Marina De Felici bene no io volevo chiedere al professore se questa questione dell'esaurimento del capitalismo dei consumi di fatto diciamo apra la strada oppure coincida anche con la critica al capitalismo del punto di vista ecologico quindi anche del superamento di modelli di economia naturalmente io mi riferisco dal passaggio dall'economia lineare all'economia circolare e se comunque questo è un punto centrale insomma anche nelle prospettive future e l'altra domanda è il lavoro al centro mi sembra una questione davvero molto importante ma perché è autenticamente importante per la vita di ognuno il lavoro e la dignità del vivere però verso quale futuro cioè verso un futuro sostenibile verso non verso quello che è stato causato fino ad oggi cioè inquinamenti esaurimento risorse cambiamenti climatici scioglimenti di ghiaccia quindi il lavoro ma verso uno scenario e verso una visione del futuro che sia sostenibile grazie grazie Montanari allora ho fatto bene a cercare di concentrare le cose così possiamo sviluppare meglio insieme i temi certo il capitalismo il capitalismo il tardo capitalismo è andato a sbattere proprio con l'esaurirsi e la crisi della società dei consumi possiamo dire che l'abbassamento il calo dei dei tassi di profitto e della stessa accumulazione e dei tassi di accumulazione dell'accumulazione capitalistica verificatasi nei primi anni 60 sono dovuti alla crisi della società dei consumi oltre un certo limite non si è potuta più espandere in altri all'interno sia dei paesi più ricchi ma soprattutto verso altri paesi e lì è cominciata la crisi dei profitti la crisi dell'accumulazione di capitale e lì che il capitalismo il capitalismo dei consumi appunto ha mostrato la corda e si è fermato e quindi la lotta per un'economia circolare una lotta contro l'iperconsumismo che nel frattempo e negli ultimi decenni si è stabilita e che sembra non conoscere confini non poter essere arrestato è fondamentale è centrale per modificare il modello di sviluppo è chiaro è chiaro che non ci può essere un futuro un futuro sostenibile senza questa battaglia cioè le cose sono sono strettamente connesse se siamo d'accordo no? Grazie non so se è il caso visto che stiamo aumentando la richiesta di interventi di raccogliere due tre questioni in modo poi da dare vediamo vediamo Marina sì allora io ringrazio il professore per la presentazione molto diciamo esaustiva ma mi permetto di sentire su un'espressione che è quella relativa alla lotta contro l'automazione perché secondo me l'automazione e quindi il progresso tecnologico e la possibilità di far svolgere funzioni dure ripetitive pesanti per gli esseri umani dovrebbe essere vista come una potenzialità di miglioramento delle condizioni di lavoro e la di condizioni di vita in generale perché permettono potrebbero permettere una riduzione delle ore di lavoro della e quindi aumentare il tempo di vita il tempo di godimento della vita quindi la lotta che secondo me bisognerebbe fare è quella alla è chiaro che invece un'automazione ma come anche un'economia una decrescita economica se non governata da uno Stato che poi riequilibra i rapporti sociali e di lavoro e quindi che garantisce un reddito a chi svolge meno ore lavorative quindi se non avviene questa perdita di posti di lavoro di orario a parità di reddito è chiaro che diventa una un boomerang per le classi lavoratrici invece dovrebbe essere una liberazione e quindi se vogliamo che con la tecnologia con la decrescita anche proprio per tornare alla necessità di una decrescita anche per problemi legati all'insostenibilità di uno sfruttamento continuo di risorse e una produzione senza limiti di materiali di materie e di prodotti se vogliamo quindi ridurre i tempi di lavoro e ridurre le merci prodotte come chiede la crisi ambientale a cui siamo arrivati lo possiamo fare con l'automazione lo possiamo fare con la decrescita ma intervenendo sulla sulla ridistribuzione della ricchezza e sulla garanzia del reddito quindi la lotta va fatta alla speculazione capitalistica che vuole che i profitti che i benefici diciamo di un'automazione vadano solo a beneficio dei produttori in qualche modo grazie grazie Giuseppe Tereco ecco io volevo certamente i dati analitici dei professori di Nazio sono come dire inopugnabili abbiamo bisogno di capire tutti gli aspetti di come si sta muovendo l'economia che rimane comunque la struttura portante della vita delle persone non è che si può vivere d'aria e quindi ringrazio anche io professor Masulli per questa analisi molto chiara e molto diciamo così utile perché mette nella posizione giusta stiamo qua stiamo in questa condizione e questa cosa non è molto presente un messaggio di questo genere nella comunicazione prevalente cioè la comunicazione sociale oggi non dà questi quadri e parla solo di fatti particolari di insomma confonde le idee io sono rimasto molto colpito dalla lettura di un libro che diciamo così mi aveva incuriosito ma che poi quando l'ho letto fino al fondo mi ha proprio convinto cioè in questo libro l'arco dell'impero di Kiao Liang un generale cinese curato e tradotto dal generale Mini brevemente sostiene che in 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi puntualmente quando la crisi del dollaro supera certi livelli scoppiano delle guerre che fanno poi scappare i capitali dalla zona e fanno ritornare i capitali in America e del mondo compresa l'ultima in Ucraina deriverebbero del dollaro che in America deve far scappare da altri scenari da altre situazioni questa cosa diciamo così anche questa è una cosa che non appartiene al senso comune dei cittadini occidentali è un altro occultamento nessuno va a vedere a mettere in relazione andamento del dollaro e scoppio di di crisi è nuova pur essendo però riuscito a fare al libro un'obiezione per dire questo è sbagliato questo non mi risulta è tutta una cosa molto documentata e molto legata a fatti ben precisi date numeri andamento delle bilanze dei pagamenti eccetera l'altra cosa che mi ha sbalordito è che secondo questo libro insomma i settori finanziari o comunque legati all'intermediazione bancaria e alla finanza in america occupazione delle persone questo ma sconvolto proprio ciò significa che il 74% della popolazione americana non vive di produzione di beni o di servizi ma vive di attività finanziarie se io ho ben capito la cosa ma sconvolto cioè praticamente avremmo una nazione che non produce quasi più niente se no è naturalmente sapere perché c'ha delle università ben finanziate e poi tutto il resto viene prodotto fuori e poi si 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 consuma con questo meccanismo di sfruttamento finanziario delle risorse vorrei un suo parere su queste due cose molto pesanti che fanno diciamo così apparire in tutt'altra ancora più tragica luce tutte le cose che ci sono state dette in un'ottima relazione che mi ha fatto piacere ascoltare posso rispondere a questo prego prego allora io ringrazio anche Marina De Felici perché mi permette di ritornare su un tema centrale che già è stato toccato cioè sia ben chiaro qui nessuno di noi credo è contro quella che probabilmente è la più grande rivoluzione tecnico scientifica internet l'informatizzazione e l'automazione dovuta alla rivoluzione microelettronica non c'è dubbio che la rivoluzione microelettronica è una dei più grandi delle più grandi rivoluzioni dei nostri tempi io sono convinto anche sulla base di letture documentazioni che la rivoluzione microelettronica può fornire oltre a quanto ha già fornito nel miglioramento della nostra vita della nostra capacità di studiare di tenere per esempio questa lezione insomma attraverso gli strumenti informatici la rivoluzione microelettronica ha possibilità di innovazione tecnica ancora maggiori di quelle finora messe in atto realizzate obbedendo ad una logica commerciale di mercato la rivoluzione microelettronica a mio avviso può consentire ancora di più molto di più così come la paragono alla rivoluzione microbiologica la rivoluzione microbiologica ha prodotto moltissimo il DNA e tutti i farmaci le innovazioni mediche che conosciamo ma sappiamo anche gli studiosi di questo campo sanno anche che anche la microbiologia anche la rivoluzione microbiologica può produrre molto di più quanto più sganciata sia dalle logiche di mercato quanto più sganciata sia dalla profittabilità detto questo certo l'automazione l'automazione quella 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 buona quella che ci rende capaci di vivere meglio di fare di più di studiare di più di lavorare in condizioni migliori eccetera è chiaro che quella non va combattuta quella che va combattuta è la utilizzazione limitata parziale e subalterna gli interessi dominanti che si è fatta finora dell'automazione se l'automazione viene usata per ridurre la forza lavoro per renderla intercambiabile per renderla più precaria quindi pagarla di meno sfruttarla sia nei paesi più ricchi sia nei paesi più poveri è quella l'automazione che va combattuta non il progresso tecnologico in quanto tale e su questo credo che così siamo tutti d'accordo insomma compresa l'ipotesi di condizioni di vita consentite appunto dall'automazione condizioni di vita e di lavoro consentite dall'automazione con risparmio con alleggerimento della fatica del lavoro della durezza anche delle condizioni di vita come Marina De Felici diceva ma a parità di salario e non solo a parità di salario consentendo questa automazione anche una maggiore e più piena espressione nel lavoro della volontà e dell'intelligenza delle persone perché è questo che desideriamo individualmente e collettivamente esprimere meglio volontà intelligenza definire meglio i fini generali quanto alla pregnante osservazione e alle considerazioni che faceva Giuseppe Greco io credo che anche qui nel gruppo raccolto in questa come nelle lezioni precedenti siamo d'accordo anche sul fatto e la storia del resto lo certifica che l'andamento del dollaro e dell'economia americana si connette con imprese belliche oggi più che mai ma non solo oggi ma oggi ancora di più è sotto gli occhi di tutto di tutti cosa significa per l'economia americana la fabbricazione vendita di armi cosa significa la soggezione dell'Europa agli interessi dell'economia statunitense come le imprese militari siano collegate quindi agli interessi monetari ed economici più generali degli USA su questo io credo che siamo d'accordo questo è un tema che anch'esso richiede di essere approfondito ma richiede anche delle lotte richiede anche che questo imperio vada contrastato non è una logica che può passare semplicemente è una logica che va contrastata in generale a mio personale parere è tutta l'età e tutta l'età degli imperi americano russo cinese qualsiasi pretesa imperialistica che appartiene al passato e come tale è pericolosa e va combattuta grazie professore non ho altri iscritti che volevo chiedere a Piero se vuole salutarci e offrirci anche l'opportunità di conoscere la prossima lezione sì subito no io vorrei aggiungere poche considerazioni a quanto ho ascoltato oltre alla relazione splendida relazione di Ignazio appare chiaro come diciamo questa rivoluzione conservatrice no a cui noi assistiamo di cui constatiamo le conseguenze sotto il profilo economico sociale e politico ha delle paradossale perché dentro diciamo questa iniziativa di ripresa del processo di accumulazione capitalistica che è stata in estate avviata dalla politica Reagan prima di Reagan e Barbara e la Margaret e la Thatcher nel Degno Unito che avviano la deregulation che avviano una rivoluzione conservatrice tuttavia appunto all'interno di questo c'è un fenomeno grandioso giustamente lo ricordava Ignazio e lo sottolineava anche Marina cioè una rivoluzione che ha liberato il lavoro e questo ha sempre significato un passo in avanti nella storia della civiltà umana cioè l'uomo che si libera dalla fatica dalla pesantezza del lavoro quotidiano diciamo fa compiere un passo in avanti all'intera società e al processo di civilizzazione invece questo non è avvenuto proprio per l'uso come diceva come ricordava Ignazio per l'uso capitalistico di questa innovazione che non esalta la qualità e la centralità del lavoro ma lo sottopone strumentalmente alle macchine e soprattutto io su questo insisto perché la prospettiva non ha utilizzato questa rivoluzione rivoluzione microelettronica per dimezzare l'orario di lavoro che era la grande prospettiva immaginata da Keynes addirittura nel 1930 nel pieno della grande crisi iniziata a Wall Street allora è accaduto anzi il contrario negli Stati Uniti è stata coniata il termine warholic cioè alcolizzate da lavoro perché gli americani lavorano come pazzi e se ci fate caso noi tutti lavoriamo moltissimo perché diciamo anche nella camera da letto noi lavoriamo con il computer con il cellulare e contribuiamo al processo di accumulazione capitalistica quindi anziché un processo di liberazione umana noi abbiamo assistito ad una subordinazione ulteriore della vita dei corpi dell'esistenza di tutti noi al processo di accumulazione capitalistica naturalmente qui il discorso sarebbe lungo perché vedete la politica si è enormemente indebolita perché è rimasta una politica nazionale chiusa dentro i confini dello Stato Nazione mentre il capitalismo è libero e si muove come una forza e slegge a livello globale a livello mondiale e noi non riusciamo a contrastarlo perché quando una maestranza diciamo rivendica in uno stabilimento migliori condizioni di vita aumenti salariali o altre diciamo cose di questo genere il capitalista può dire se non ti sta bene io sposto la fabbrica e tu resti disoccupato questo ha questo meccanismo della delocalizzazione usata a scopi di profitti a scopi politici e di classe ha indebolito enormemente il potere sindacale e anche il potere delle forze politiche progressiste che si sono acconciate per salvare se stesse come ceto a farsi portatori del linguaggio delle logiche delle retoriche del neoliberismo la storia la storia degli ex comunisti degli ex socialdemocratici in Europa del partito democratico in Italia e si iscrive in questo in questo processo la dissoluzione dei partiti popolari di massa è una conseguenza di questa storia che questa sera questa sera diciamo nel nel suo nucleo centrale cioè la storia del lavoro Ignazio Masullo ci ha Masulli ci ha rappresentato mi fermo qui così chiudiamo allora vi ricordo che la prossima lezione sarà tenuta il 6 febbraio dal professor Salvatore Settis sul tema come difendere come salvare il patrimonio culturale in Italia grazie e arrivederci a tutti un grazie ancora Ignazio Masulli grazie Roberto arrivederci a tutti